Campus Wave ti porta a Sanremo, segui la voce della tua università. Luca Bizzarri domani sarai ospite della serata, cosa farai? Non si può ancora dire, faremo una cosa su... ma sì ma ve lo dico, ma che cazzo... Una cosa su quello che accomuna adesso tutti gli esseri umani, cioè sulla paura, faremo una roba sulle paure. Ma sarà una cosa... Una roba da ridere, però che farà ridere ma farà anche pensare. Com'è ritornare a Sanremo dopo averlo condotto a questo giro da ospite? Sempre uguale, mi sto cagando addosso da ieri, mi cagherò addosso fino a domani, però vabbè, è bello. Va bene, grazie Luca. Ciao, ciao. Campus Wave ti porta a Sanremo, segui la voce della tua università.